Il prossimo viaggio è per Burgos, tutto prosegue per il meglio, la Spagna abbiamo la sensazione sia un po' l'Italia di qualche settimana fa, sono tutti molto sereni e probabilmente sono fiduciosi di contenere il virus senza grandi preoccupazioni, quindi si giocherà a Burgos immagino anche a porte aperte perché come stanno facendo tante partite non ci sono grandi preoccupazioni. Noi in maniera responsabile siamo arrivati qua, viviamo questo momento con estrema attenzione, sappiamo che è un momento complicato, non ci facciamo assolutamente prendere al panico perché non ce ne sono motivi, però abbiamo adottato il nostro stile di vita a quelle che sono le prescrizioni del momento che vanno seguite da tutti in maniera rigorosa se vogliamo debellare la problematica. Su Roma è andato tutto come dove andare, alla fine l'allarme iniziale è rientrato perché le notizie prevenute non erano esattamente poi quelle che si sono rivelate e per cui portiamo a casa quel risultato, anche se in questo momento la parte sportiva ovviamente ha un'importanza diversa, però per noi è stata importante comunque riprendere la marcia del campionato e ora domani decideremo tra l'Assemblea di Lega e poi sappiamo che c'è un Consiglio federale della federazione a seguire quelle che siano le soluzioni più opportune per un momento che comunque è particolare e va gestito con risultati e con situazioni particolari.